Intervento dei vigili del fuoco ieri in località Trescheconca di Roana, lungo la strada per Canove, per un'auto finita contro il Garrei dopo la perdita di controllo da parte di una donna alla guida rimasta ferita. I pompieri arrivati da Asiago hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto l'ottantenne che è stata presa in cura dal personale sanitario del SUEM e trasferita all'ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora e mezza.